Questa mattina i carabinieri della compagnia Carabinieri di Caevano, su disposizione della procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno tratto in arresto un 74enne per il tentato omicidio ai danni della moglie di 71 anni. L'immediato intervento dei militari ha consentito di accertare la dinamica dei fatti. La donna era a letto quando il conigio, per motivi ancora in corso di accertamento, l'avrebbe colpita con un paio di forbici alla gola e al petto. La donna ha soccorso prima da alcuni familiari e poi dai militari intervenuti, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fratta Maggiore e sottoposta ad intervento chirurgico e allo Stato non versa in pericolo di vita. L'uomo è stato tradotto al carcere di Napoli poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.